Compatta ebrida Kia Niro è la prima crossover compatta spinta da una combinazione di motori, uno a benzina il primo giugno litri, 105 CV, e uno elettrico, 43 e 5 CV, per una potenza combinata di 141 CV, abbinati a un cambio automatico doppia frizione a 6 marce. Il suo destino non prevede versioni con motori tradizionali, diesel o benzina, ma nel 2017 arriverà una versione plug-in, cioè con la possibilità di ricaricare le batterie alla rete di casa, e più avanti una versione elettrica, che sfrutterà la tecnologia di Kia Soul elettrica. Anidride carbonica secondo i dati forniti dalla casa sudcoreana, nel ciclo di omologazione Niro ha consumato 3,8 litri di verde per percorrere 100 km e le emissioni di CO2 sono state contenute in 88 grammi per chilometro, al di sotto dell'incubo normativo dei 95 grammi di CO2 per chilometri, che sarà obbligatorio nel 2020, con pesanti sanzioni per chi non lo rispetterà. Il look è piacevole, Niro è una crossover che non rinuncia a linee slanciate ed eleganti. Frutto della creatività di Peter Schreier, il capo del design, che festeggia in questi giorni i 10 anni in Kia, periodo nel quale le vendite, sono passate da 1,1 milioni a oltre 3 milioni di pezzi all'anno. Il frontale a naso di tigre, la linea di cintura alta, la forma sinuosa del terzo finestrino che aggiunge sportività al profilo, e i cerchi da 18 pollici danno la sensazione di grande stabilità e aderenza al suolo. Una grande attenzione è stata posta all'aerodinamica CX pari a 0,29, e alla dotazione di pneumatici Michelin ecologici, fattori che contribuiscono alla diminuzione dei consumi. Molto spazio o la sorella minore di Sportage è lunga 436 centimetri, larga 180, alta 153. Ma ad assicurare tanto comfort ai passeggeri e spazio nel baule, da 427 a 1425 litri, è il passo lungo 270 centimetri. Per fare un paio di esempi pratici l'espazio per le gambe è 106 centimetri davanti e 95 dietro. Lo spazio per la testa dietro è oltre 99 centimetri, misure superiori a quelle di SUV più grandi. L'abitacolo è ben assemblato, rivestimenti e pannelli sono di buona qualità e tutto, dai pulsanti ai portaoggetti, è progettato per essere utile e facile da usare. Vireles per gli smartphone Niro ha previsto la presenza di un apposito vano al centro della console che permette la ricarica Vireles, che vengono automaticamente identificati e alimentati con un sistema A5W, segnalando lo stato di carica, e con un sistema di protezione da eventuali surriscaldamenti. Gli smartphone Android e Apple possono interfacciarsi e dare accesso a tutte le applicazioni, comprese le attivazioni vocali che rendono possibili i comandi senza distogliere l'attenzione dalla strada. Si mette in moto premendo un pulsante nel silenzio più assoluto, poi appena si chiede più potenza si sente il rumore del quattro cilindri. Rapallo e le cittadine limitrofe sono un ottimo banco di prova. Salite e discese, strade strette che sembrano poco più di sentieri, e un traffico tale da esaltare la combinazione ibrida che in queste condizioni assicura il maggior risparmio di carburante. Facile da guidare la Niro, a trazione anteriore, è facile, da guidare e intuitiva nella gestione dei sistemi di bordo. Con il cosiddetto uovo sotto l'acceleratore fino ai 50-60 si riesce ad andare in elettrico puro e quando si arriva in discesa, e si molla il gas, il sistema ibrido ricarica rapidamente la batteria. Nelle strade strette si apprezza l'agilità, e la precisione dello sterzo. Il cambio automatico è un aiuto prezioso quando si sta in coda, e volendo strafare si può usare in modo manuale spostando la leva verso sinistra e spingendo e tirando per salire e scendere di marcia. Anche in autostrada si viaggia bene con pochi frusci aerodinamici e un certo rumore di rotolamento delle gomme. Con lo sconto insomma Niro è una vettura interessante, che si inserisce in un segmento del mercato in crescita, poiché la richiesta di auto ibride è destinata ad aumentare in maniera considerevole. Peccato che Kia Italia abbia a disposizione circa 500 Niro fino alla fine dell'anno, perché il prezzo di 27.000 euro scontato di 2.100 euro, per la durata di un paio di mesi, è interessante. Ancora di più per chi permuta a Rottama un'auto ibrida, che può godere di altri 2.000 euro di bonus. Nessun problema per gli indecisi. Esiste una sola versione ben accessoriata. Tuttavia potranno scegliere tra sette diverse tinte di carrozzeria. Anche per Niro valgono i sette anni di garanzia o 150.000 chilometri.